A Piacenza, dall'inizio delle vaccinazioni fino ad ora, si è verificato solo un caso di debole reazione allergica all'Opfizer, a cui se ne aggiunge un altro ancora più leggero. Si tratta di una signora già classificata come allergica, spiega Franco Pugliese, direttore del Dipartimento Sicurezza dell'USL, che ha manifestato gonfiore alle labbra e difficoltà di respirazione. Le sono stati somministrati due farmaci necessari e dopo 5 minuti stava già bene, aggiunge Pugliese. Sono circa 87.000 le dosi somministrate nella nostra provincia dall'inizio della campagna vaccinale, mentre i piacentini, ad aver concluso il ciclo, coloro ai quali è stato inoculato anche il richiamo, sono 27.000 e ad oggi non si è registrato alcun caso di trombosi e in nessuna occasione è stato necessario il ricovero ospedaliero in seguito alla vaccinazione. Sul totale circa il 18%, cioè quasi 16.000 dosi, sono di vaccino AstraZeneca. Tutte le segnalazioni di eventi indesiderati, fa sapere l'USL, sono inviati ad AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ma per quanto risulta agli operatori sanitari che quotidianamente prestano servizio nei poli vaccinali della provincia, le reazioni più comuni non vanno oltre a lievi stati febbrili di breve durata, al massimo un paio di giorni, trattati con antipiretici, oppure a dolori muscolari e ossei o ancora un po' di spossatezza. Pugliese, intervistato da Libertà, ha anche spiegato che il tempo di richiamo per il vaccino Pfizer, definito a 21 giorni, può essere allungato di altri 15, perché non implica una variazione significativa rispetto al livello di protezione e rimane comunque entro il limite di 42 giorni utili indicati da AIFA per ricevere la seconda dose e non sprecare la prima. Intanto, per le persone più fragili, le vaccinazioni proseguono anche a domicilio, restano circa 2.000 persone da vaccinare a casa, molte delle quali con più di 80 anni.